Campo Marzo, c'era una volta l'outlet veneto della droga. Oggi è uno dei parchi più controllati in assoluto. Il comune qui ha investito in sicurezza e oggi tornano le pattuglie in bicicletta della polizia locale. Oggi, con l'arrivo della primavera, inizia nuovamente il servizio mountain bike in Campo Marzo. Servizio che veniva fatto anche lo scorso anno, in primavera e estate. Oggi è il debutto, quindi per tutta la giornata, mattino e pomeriggio, avremo una pattuglia di agenti mountain bike che perlustrano e controllano Campo Marzo. Dal 2018 a oggi, a Campo Marzo, è stato costruito il distaccamento della polizia locale. Sono state portate le pattuglie antidegrado. È stato costituito il NOS, il nucleo operativo speciale, con una visione in tempo reale delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. E hanno esordito le pattuglie in mountain bike, da contrapporre ai pusher in bicicletta e col monopattino. Gli interventi delle forze dell'ordine in questo modo sono stati quadruplicati. Ma il vero futuro si chiama riqualificazione, con un progetto che punta a dare un nuovo volto a Campo Marzo e a riportarci i vicentini. È questo il vero antidoto al degrado. Il parco, come sappiamo, verrà rivisitato, rivalutato con i fondi del PNRR. E comunque direi ai vicentini anche di usufruirne del parco in maniera più capillare, più presente, perché questo può aiutare lo spostamento di determinate attività illecite. Grazie